Un protocollo per favorire e promuovere l'attività sportiva delle persone disabili. L'intesa che mira a regime all'apertura di uno sportello del locale comitato paralimpico all'interno degli uffici Inalil di Campobasso è stata sottoscritta dai vertici dell'ente e dell'associazione. Oltre ad avvicinare alla pratica sportiva gli infortunati sul lavoro, l'accordo mira anche alla messa in campo di tutta una serie di informazioni destinate proprio ai praticanti circa le attività paralimpiche programmate sul territorio regionale. È una firma importante perché sancisce che i compagni di viaggio Inalil e CIP da oltre 60 anni vogliono proseguire in questa loro attività a favore dello sport paralimpico, degli infortunati e invalidi del lavoro e vogliono favorire al massimo la diffusione dello sport paralimpico che è uno strumento di socializzazione e di salute. Oggi consideriamo solo il reinserimento sportivo, diciamo così, sociale, ma ci sono una serie di altri strumenti rivolti ai nostri assistiti proprio per ripristinare al meglio le condizioni di vita e di lavoro. Sì, questo appunto è il nostro obiettivo, di dare la possibilità a tutti di praticare tutti gli sport o almeno quelli appunto che piacciono, che preferiscono, perché lo sport appunto è salute, integrazione, ma soprattutto è una situazione di benessere che porta un giovane, una persona che vive una malattia o ha vissuto una disabilità, di venirne fuori, di avere la forza e il coraggio di riprendere in mano la propria vita e di andare avanti e di ottenere dei successi che forse non erano quelli che pensavo in un primo momento, però ugualmente alti, importanti e che forse gratificano molto di più. Grazie a tutti.